Vi racconto la storia di un mio amico, un mio amico a cui i parenti si erano messi d'accordo per rubargli tutto, per rubargli tutto il patrimonio. Gli avevano fatto causa dichiarando il falso, in modo che lui perdesse tutto il suo patrimonio. E questo mio amico ovviamente non aveva tempo per pensare alle inondazioni in Libia, per pensare ai vari terremoti che si verificavano nel mondo. Questo mio amico da un po' di tempo non aveva più neanche il tempo di pensare alla figa, perché c'erano questi parenti serpenti che lo volevano rovinare. Non aveva più neanche il tempo di vedersi le vecchie puntate di Drive-In con Enrico Beruschi.